Comunque vediamo il ritorno di Alfagemme oggi e il urbanese voluto fortemente dalla dirigenza è ritornato, era stato accostato al Pinedo ma poi non se n'è fatto nulla, non ha firmato più per il Pinedo e torna in coppia con Congiu, ma anche Esposito che sembra che sia infortunato quindi Veneto cittadina marchigiana, vincente ad Avellino qualche anno fa, buona la rimessa di Antonio Riccio, lunga cittata, cercare il Wozni, il Matesino Doc, buona questa palla in mezzo, Alfagene fuori gioco, scacco, Bruno Alfagene, bella sta triangolazione, ancora Bruno Alfagene, Alfagene a tu per tu con De Luca, c'è stato anche uno spintone su scacchi e si è stirato ancora, sembra che sia stirato Alfagene, Fabiano mette l'ennesima palla in mezzo, stacca bene, palla, attenzione, ancora Congiu questa volta si riscatta, troppo profondo, ancora, buona questo Fabiano, buona, c'è stato un fallo che poteva essere avvisato qualcosa di più, Boboricci, ottimo questa palla di Fabiano per scacco, scacco ancora, non arriva Bruno Alfagene, grandissima giocata di scacco, ottima questa intuizione di scacco, Boboricci, ottimo questa palla di Fabiano per scacco, scacco ancora, non arriva Bruno Alfagene, grandissima giocata di scacco, ottima questa intuizione di scacco, praticamente c'è stata un'indecisione, è a botta sicura, Boboricci, ancora bene buona, 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 Boboricci, Boboricci, lui ha tu per tu con De Lui, Bruno Alfagene, niente da fare, 0-0 primo tempo, ben quattro matesini, non nel primo tempo, però ha sempre qualche numero come questo quadrano che salta secco Antonio Ricci, scende, comunque batte Ristocci, ed è gol, ed è gol, ed è gol, ed è gol, ed è gol del Nereto, questo è il calcio, Alessio Langellotti, è grande intervento del portiere, grandissimo intervento del 2002, il drop, e gran tiro di Alessio Langellotti, si affaccia anche con più commissione in avanti, Boboricci, buona questa giocata di Alessio Langellotti, Boboricci, è gran parata, è incredibile adesso, veramente il cuore, Antonio Ricci ha la lunga gittata, a cercare il Wozni, Setola tenta il tiro, e spiora incredibilmente la traversa, buona questa apertura, a cercare Boboricci, a tu per tu con il portiere, Alfiani, e no, non è giornata, non è giornata, Alfiani, Alfiani ancora, è ancora De Luca, è ancora De Luca, prendiamo una punizione del tutto gratuita, in una posizione come prima, il quinesimo, e pareggiamo, pareggia Lairone Congio, si fisca bene così, buttiamo letteralmente dalla finestra due punti,